Quinto trofeo podistico Alcamo, città d'arte, si torna dopo lo stop dettato dalla pandemia da Covid-19. Ci ha spiegato tutto Carmelo Signorino, presidente dell'SdLipatletica Alcamo, che organizza fra l'altro l'evento. Tu sei l'anima di questa manifestazione. Cinque edizioni già cominciano a avere una propria storia. Finalmente dopo quel brutto periodo di pandemia che il 20 marzo del 2020 ci ha bloccato il nostro quinto trofeo podistico Alcamo, città d'arte, quest'anno andrà la quinta edizione per dare a tutte queste persone che arrivano le nostre bellezze che abbiamo iniziando dal nostro centro storico di Alcamo, dove tutta la gara proprio snoderà per 2,7 chilometri, che saranno tre giri. Alle 8 appuntamento in Piazza Ciullo, dove da lì ci sarà la partenza. Poi quest'anno abbiamo inserito pure le gare giovanili, da 5 anni fino a 18 anni, quindi esordienti, juniores, perché cerchiamo un po' di far avvicinare questi ragazzi a questo sport bellissimo di sana corsa. Questo per noi è importante. Per tutti quelli che arriveranno da fuori ci sarà un ricco pacco gara, diamo sempre la nostra maglia tecnica, quest'anno l'abbiamo fatta per i due, sia maschile che femminile. La cosa importante è divertirsi e cercare di fare gruppo. Portare scena a una manifestazione non si improvvisa il giorno prima, ci sono mesi e mesi di lavoro, di organizzazione. Ogni anno finita la gara si rinizia a parlare dell'altra edizione, ci impegna per 12 mesi l'anno. Ecco, il nostro direttivo formato da 8 persone, mensilmente ci riuniamo. Per noi è proprio un momento di aggregazione, perché cerchiamo di lavorare su due fronti, sia culturale che sociale. Come sociale quest'anno ci saranno delle associazioni, l'Autos, l'AIRC, che si occupano dei bambini autistici. Ci sarà un'altra associazione, la sindrome di Occhipinz, bambini che hanno dei problemi motori. Fino ad ora siamo all'incirca attorno ai 350 iscritti. Pensiamo che si raggiungeranno i 500 iscritti e spero anche di più. Mi aspetto che domenica saranno tutti contenti di aver fatto parte di questa giornata di sport e salute.